Allora, innanzitutto, come faccio a smentire una cosa che non ho mai detto? Uno. Seconda cosa, come faccio a confermare una cosa che è inesistente? Quindi al momento sono alla Viventus, ho ancora un anno e mezzo di contratto, sto bene. Come ho sempre detto, abbiamo una stagione da portare a termine nel migliore dei modi, poi a tempo dovuto ci incontreremo con la società, perché giustamente sia loro che io bisogna parlare, perché è una cosa di futuro, di programma, ma al momento tutte queste cose sono tutte illazioni che vengono scritte e dette.